Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Al sud insisteranno correnti calde meridionali, che faranno schizzare la colonina di mercurio su temperature decisamente elevate, tipiche estive. Questo caldo rappresenta il fronte più avanzato di una perturbazione di origine artica, che dalla sera di oggi e soprattutto da lunedì raggiungerà anche le nostre regioni, arrecando un crollo termico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 17 settembre. Al primo mattino possibili nebbie su aree ioniche ma in veloce dissoluzione. Passaggi nuvolosi sin dal mattino a partire dal nord delle regioni e in estensione al resto dei territori. I cieli quindi si presenteranno poco nuvolosi quasi ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità maggiore sul centro-sud Puglia con basso rischio di precipitazioni. In serate invece le schiarite saranno sempre più ampie. Temperature calde nelle ore centrali del giorno con punte di 32-33 gradi, ma dal pomeriggio decisa diminuzione di temperature che perdurerà fino a tarda sera. I venti inizialmente soffieranno deboli dai quadranti meridionali, ma lentamente dal pomeriggio si disporranno dai quadranti settentrionali. E per quanto riguarda i mari, mosso l'Adriatico e mosso anche lo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Ennio Mascia per aver immortalato l'istante esatto di un fulmine che colpisce le campagne sui monti della Daunia. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.